Ora stand interviste del basket sotto le stelle 4.0 Ancora con una delle più gnocche del gruppo, Mariangela Anche lei genitore storico che ci ha dato una mano in tutte queste edizioni Quest'anno cosa ne pensi? Sempre più grandi, sempre più forti Viva basket sotto le stelle E non l'abbiamo pagata, è così di normale Grazie Mariangela e alla prossima intervista